Allora, la parola competenza della provincia di Pesaro Urbino non è esatta, in quanto è di proprietà della provincia di Pesaro Urbino. Tutti i terreni sotto il lago, intorno al lago di Andreuzzo, sono di proprietà della provincia di Pesaro Urbino, perché trattasi di bene disponibile, quindi trattato alla stregua di un bene privato, per cui nel passaggio, come altri beni, ad esempio la Rocca di Maiolo, questo bene non è passato di proprietà alla provincia di Rimini. Quindi ci troviamo nell'insolita situazione di dover gestire un bene di proprietà di una provincia e per cui la provincia di Pesaro Urbino non ha più nessun interesse a mantenerlo. Sì, perché ricordiamo che anche l'eventuale indotto non finirebbe nelle casse della provincia in questo caso. Sì, adesso di indotto al momento non si può parlare, perché il lago è comunque una prestatissima metaturistica e anche dedicato alla pesca sportiva, quindi il problema non è tanto di indotto, il problema è che è un'area naturalistica di grande importanza dentro l'area protetta del parco. Metaturistica è molto importante e noi vogliamo mantenere. In questo momento non si sta parlando di indotti, eventualmente sono appunto generici nel senso per il turismo. Beh, certo, era questo il tipo di indotto al quale ci riferivamo. Assessore, ma è vero che c'è anche tutta una questione politica legata appunto a questo lago, un po' conteso, potremmo dire così, proprio tra le due province? Dunque, in realtà il problema c'è da tempo, da quando c'è stato il passaggio. Da quando siamo stati eletti no nel 2011 ci stiamo dando da fare per trovare una soluzione, raccolta di firme che abbiamo spedito, l'anno scorso abbiamo anche raccolto 750 firme che abbiamo spedito anche alla provincia di Tesarubino. La scorsa settimana abbiamo ottenuto un'assemblea pubblica con tutti i cittadini per sentire il loro parere su come procedere. Nel frattempo abbiamo fatto richieste formali e informali alla provincia di Tesarubino per vederci e concretizzare, perché è il momento di concretizzare, gli anni sono passati, ma non abbiamo mai avuto la disponibilità da parte della provincia di Tesarubino di incontrarci. Un po' di ostruzionismo. Esatto. Attualmente, in accordo con la provincia di Rimini e con l'assessore Galli, ci stiamo muovendo ancora. Sembra che il presidente Ricci ci ha fatto trasversalmente sapere che in settimana riuscirà a darci questo appuntamento. Nel frattempo il lago è aperto e agibile? Ecco, questo è il motivo dell'uscita di questo articolo. Questo ci preme precisare, perché con tutte queste informazioni confuse che sono passate sulla stampa, immagini del lago... Quello è sbarrato praticamente. Esatto, ci preme. E siccome riceviamo anche molte telefonate, sia come comune che come strutture recettive, che ci chiedono se il lago è aperto, allora ci tenevamo a specificare che il lago è aperto. Con qualche lavoro in corso, nel senso che stiamo riparando le staccionate, facendo quei lavori di manutenzione che la provincia di Pesaro non fa più. Quindi, con i lavori in corso, tutte le attenzioni, ricordiamo che è un luogo pubblico, però ci sono anche delle acque profonde, quindi insomma una massima attenzione anche per i bambini, eccetera, però il lago è aperto. Quindi, insomma, visto che arrivano le belle giornate, questo è importante assolutamente dirlo, perché intanto arrivano da tutte le parti della provincia, ma anche del Pesarese, insomma, per godersi una bella giornata sul lago di Suane. Assessore, tra l'altro, importante anche questo passaggio, che potrebbe essere, insomma, a questo punto all'auspicio che questo incontro ci sia e anche si possa vedere la luce rispetto a questa vicenda che già da qualche anno vi fa penare, anche dei fondi ci sono, che sarebbero disponibili, in teoria, se tutto andasse, appunto, se ci fosse questo passaggio proprio per riqualificare l'area. Esatto, come dicevo prima, l'area ha bisogno di una forte riqualificazione, perché abbiamo problemi ai pontili, ponti staccionate, i servizi, e quindi, come Comune di Penabilli, abbiamo presentato un progetto sia al Parco Interregionale che alla Regione Emilia Romagna per l'acquisizione da parte della Provincia di Rimi, che, appunto, credo a questo punto che sia imminente. Però anche la valorizzazione e il recupero del lago. Il progetto è di un importo di circa 150 mila euro e dovrebbe essere finanziato dalla Regione Emilia Romagna, predisposto un finanziamento specifico dalla Regione Emilia Romagna per il Parco Interregionale. È speranzosa rispetto a questa definizione che dovrebbe arrivare in settimana, Assessore? Sul passaggio di proprietà, sì. Direi che ormai dovremmo iniziare a raccogliere i frutti di tutto il nostro lavoro, insomma. Sul passaggio di proprietà sono cautamente ottimisti, insomma, confido che la provincia di Peservino finalmente ci riceva e usciamo da una stanza con delle decisioni prese. Anche perché, ricordiamo, al momento questi lavori al Parco vengono fatti a carico del Comune e di questi tempi è anche difficile trovare i fondi per poter fare lavori che non erano previsti. Per fare questi primi lavori, perché i lavori di 150 mila euro questi si faranno a finanziamento concesso. I lavori di immediata e indispensabili ci sta aiutando la provincia di Rimini. Quindi c'è una compartecipazione nelle spese. Sicuramente un patrimonio che a questo punto speriamo davvero diventi proprietà della nostra provincia anche dopo questo importante lavoro fatto. Credo che poi, Assessore, al di là della politica che giustamente si muove a livello amministrativo, ci siano poi tutti i cittadini di Pennavilli che insomma il lago lo sentono loro, al di là della proprietà materiale. Io stessa risiedo lì vicino e quindi conosco perfettamente l'importanza che ha per me e per tutti noi cittadini di Pennavilli insomma il lago. Fatti per questo abbiamo fatto un'assemblea l'11 marzo in cui è emerso che i cittadini di Pennavilli preferirebbero che il lago venisse, la proprietà del lago venisse trasferita al comune di Pennavilli e non al parco interregionale. Quindi noi ci muoviamo in questa direzione del trasferimento al comune. Il parco interregionale era solo un'eventuale proposta nel caso non andasse a buon fine quella al comune di Pennavilli anche perché il parco interregionale va comunque coinvolto perché senza il coinvolgimento del parco non abbiamo i finanziamenti quelli cospicoli.